Ciao Buonasera Buonasera, come ti chiami? Sharif, però il nome d'arte è Sceffo Sharif Perché urlano questa gente? Perché... Sono la tua famiglia? No Ho un canale su YouTube Quanti followers hai? Più di cinquanta mila Sì Anche io Mi piace perché lanci baci a profusione Non spara baci Sono una cosa bellissima Che porti? Counting Stars The One Republic Il pubblico è già con te, allora Continuo a dar baci Lo so, non riesco a non farlo Bravo, bravo, bravo Dai, cantiamo Grazie Lately I've been I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby I've been I've been praying hard Say no more counting dollars We'll be We'll be counting the stars And I Feel something so wrong Doing the right thing Say it And I Feel something so right Doing the wrong thing I could lie Could lie Could lie Could lie Everything that kills me Makes me feel Lately I've been I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby I've been I've been praying hard Say no more counting dollars We'll be counting Take that money, watch it burn Sink in the river the lessons I've learned Take that money, watch it burn Sink in the river the lessons I've learned Grazie C'è roba? Per me no Per me La tua voce Troppo piccolo Range Range Un'estensione Un'estensione Yeah Se ti applaudono tutti Vuol dire che Che tu vali Ma io Non ho visto Questo valore Oggi Qui Ok Grazie Mi trovo molto vicino a te Nel senso che La mia storia È molto analoga Alla tua Io Sei anni fa Mia madre Mi Regala una videocamera Con cui io Imparo i rudimenti Del montaggio video Inizio a registrare Mixare le mie canzoni E a girarmi i video Metterle su youtube E questo poi ha Mi ha dato l'opportunità Di fare Della mia passione Un lavoro E Io però Devo Devo giudicare quello che ho sentito qui E non posso far finta Di non aver sentito delle mancanze tecniche Questa esibizione Non l'ho trovata convincente Ok Ho fatto la critica E la capisco Qualcosa Ce l'hai Perché 50.000 persone E anche questo rapporto che tu hai È una cosa impressionante Ma Il lavoro Tu devi farlo Ancora di più Perché C'è una grande differenza Fra L'intimità Di una canale youtube Che fai In camera tua E anche La pressione E anche Le sfide tecniche Che ci sono Sul palco vero Grazie Andiamo al giudizio Ok Per me è un no Mi dispiace Lo stesso Anche per me è un no Grazie mille Anche il mio è un no Grazie mille E immagino che Per me è un no Ok Grazie lo stesso Non sei pronto Ok È un no ma con speranza anche Va benissimo Grazie mille lo stesso Va benissimo Grazie mille lo stesso